Voglio subito essere chiaro, si è trattato di un gravissimo omicidio, volontario, feroce ed efferato. Non parliamo assolutamente di un incidente, purtroppo si tratta di un grave fatto di sangue, di un grave delitto. Non lasciano spazi a dubbi o a male interpretazioni le dichiarazioni rilasciate dal procuratore Francesco Curcio durante la conferenza stampa convocata lunedì 27 marzo a Potenza, al termine della quale è stato anche lanciato l'appello alla comunità di Pesco Pagano di collaborare e fornire qualsiasi informazione utile per fermare al più presto l'assassino del dottor Lorenzo Pucillo, il medico della Z a Picerno ammazzato martedì 21 marzo, orientativamente intorno alle ore 10, nella sua azienda agricola, l'azienda Miele, in località Cucumiello a Pesco Pagano. Inizialmente, subito dopo il ritrovamento del corpo, venuto la mattina successiva da parte di un agricoltore, si ipotizzò che Pucillo fosse stato ucciso dall'attacco di un bovino. A seguito dell'autopsia, che aveva indicato ferite d'arma da fuoco sul torace e sul collo, chiaramente la prima ipotesi è stata stralciata. Le due piste eseguite dagli investigatori in relazione al movente sono indirizzate a dissidi personali legati a questioni di proprietà oppure maturati in contesto familiare. A queste, nelle ultime ore, se ne è aggiunta una terza collegata a motivi passionali, in quanto sarebbero emerse da alcune dichiarazioni che il cadavere del dottor Pucillo è stato trovato accanto al suo trattore con i pantaloni abbassati, particolare questo sul quale sono in corso verifiche e accertamenti. La salma del dottore ad oggi non è stata ancora restituita ai familiari, mentre continuano le indagini coordinate dal PM Giuseppe Borriello e portate avanti dai carabinieri della Compagnia di Melfi e dal Nucleo Investigativo di Potenza.